Ben ritrovati su Sicilia 24 per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia. La cronaca in primo piano partendo dal catanese per la precisione da tre mestieri etneo dove i carabinieri durante un controllo hanno beccato e tratto in arresto un giovane pusher. Si tratta di un ventenne accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il servizio. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania a tre mestieri etneo hanno arrestato in flagranza un ventenne del posto incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso della quotidiana attività info investigativa per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti i militari avevano appreso che in via dei giardini proprio nei pressi di uno spazio verde comunale qualcuno aveva posto in essere una redditizia attività di spaccio di droga. Immediata da parte dei militari è stata la risposta con l'effettuazione di alcuni servizi di avvistamento che ben presto hanno documentato l'arrivo di un'auto che con assiduità giungeva in quel luogo salvo poi allontanarsi repentinamente e farvi ritorno poco dopo. Tale strano comportamento ha ovviamente attirato l'attenzione dei militari i quali hanno pertanto bloccato l'autovettura identificando i quattro occupanti tutti i ventenni coetanei ma nella circostanza il passeggero anteriore ha manifestato inequivocabili segnali di immotivato nervosismo comportamento le cui cause sono state ben presto svelate da un controllo a suo carico a seguito del quale i militari hanno rinvenuto nella tasca dei pantaloni due bustine di plastica contenenti marijuana e la somma di 60 euro. I militari a questo punto hanno comunicato al giovane che sarebbe stato necessario effettuare una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione di via Montiarsi tal che evidentemente per limitare gli ormai inevitabili danni ha confidato loro di detenere altra droga in casa. Qui il giovane ha loro consegnato uno zaino contenente una busta con marijuana sfusa bustine per la suddivisione della droga in dosi, materiale per il confezionamento e due bilance di precisione nonché un ulteriore sacco al cui interno hanno rinvenuto 13 involucri con marijuana per un peso così complessivo di 75 grammi. Il ventenne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Cambiamo decisamente argomento, parliamo adesso di un appalto truccato al Consorzio per le Autostrade Siciliane, un appalto da 10 milioni di euro. Sono state eseguite quattro misure cautelari nei confronti di un ex dirigente del Consorzio e di tre imprenditori. Vediamo il servizio. La Direzione Investigativa Antimafia di Messina ha eseguito nella provincia messinese e nel nord Italia un'ordinanza di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale Peloritano su richiesta della locale procura nei confronti di quattro persone accusate in concorso di turbata libertà dei pubblici incanti. Si tratta di un dirigente, oggi in quiescenza, del Consorzio per le Autostrade Siciliane che si trova ora ai domiciliari e di tre imprenditori a capo di un'impresa leader nella fornitura di servizi attinenti la rete viaria. Due degli imprenditori sono ai domiciliari, il terzo è stato invece raggiunto dalla misura interdittiva del divieto di esercitare o ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per sei mesi. Le indagini della DIA, coordinate dalla Procura della Repubblica di Messina, hanno fatto emergere come nel corso del 2020, gli indagati abbiano posto in essere una serie di collusioni turbando il procedimento di formazione del bando di gara riguardante l'espletamento del servizio di presidio antincendio nelle gallerie della rete autostradale A18 Messina Catania e A20 Messina Palermo, indetto dal Consorzio Autostrade Siciliane per un importo di quasi 10 milioni di euro. Attraverso le loro condotte, gli indagati erano riusciti a far sì che il contenuto del bando fosse strutturato in maniera tale da indurre la stazione appaltante a individuare il contraente in un'ati già determinata. Ci spostiamo a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha invece scoperto un tir che trasportava oltre 12 tonnellate di sigarette di contrabbando. È stato tratto in arresto anche l'autotrasportatore, si tratta di un camionista bulgaro. Vediamo il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato oltre 12 tonnellate di tabacchi trovati all'interno di un auto articolato con targa bulgara fermato nella zona del casello autostradale di Buonfornello sull'autostrada Palermo-Messina in direzione del capoluogo siciliano. È stato arrestato il camionista, un 34enne bulgaro. I controlli sono scattati la scorsa settimana da parte del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. I militari, con il contributo del cane anticontrabbando Arca, hanno scoperto quello che dicono essere uno dei più grossi carichi illegali di sigarette scoperto in Sicilia negli ultimi anni. 45.000 stecche di contrabbando con il marchio Merit. Il Corriere è accusato di contrabbando e introduzione nello stato di prodotti contraffatti. L'arresto è stato convalidato dal GIP che ha disposto la custodia in carcere per il 34enne. Notizia dal Siracusano. È stato tratto in arresto l'autore di una rapina a mano armata ad Avola. L'uomo è stato rintracciato dalle forze dell'ordine e, come detto, arrestato a Parigi. Lì, infatti, si era rifugiato. È stato arrestato a Parigi un uomo originario di Avola in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il provvedimento è stato emesso a seguito di fatti intercorsi il 22 ottobre del 2022, quando il Reo si è reso responsabile di una rapina a mano armata presso una gioielleria del centro della cittadina retusea. La conseguente immediata attività di indagine, di iniziativa e delegata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, espletata dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Avola, ha consentito il riconoscimento dell'autore del reato. Per questi fatti, il Tribunale di Siracusa ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere lo scorso 21 novembre 2022. L'indagato, tuttavia, dopo i fatti occorsi, si era reso irreperibile, sottraendosi all'esecuzione della misura. Il personale della Polizia di Stato in forza al commissariato di Avola, con l'ausilio delle più avanzate tecniche investigative, è riuscito a ottenere informazioni essenziali per il rintraccio del ricercato in Francia. Stante l'incessante collaborazione tra il commissariato di Avola, la Procura della Repubblica di Siracusa e il Tribunale di Siracusa, sulla scorta della predetta attività degli organi inquirenti, è stato emesso un mandato di arresto europeo lo scorso 20 dicembre. A seguito delle evidenze investigative e del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria, sono stati attivati dai poliziotti di Avola gli organi di cooperazione internazionale tra le forze di polizia, al fine di fornire agli ulteriori sviluppi dell'attività d'indagine effettuata ad Avola dalla squadra di polizia giudiziaria. Il personale del commissariato è riuscito sia ad acquisire rilevanti indizi circa la località dove il Reo prestava l'attività lavorativa, individuandola nei pressi di Parigi, sia a risalire all'utenza telefonica usata dal ricercato. Sulla scorta delle predette risultanze info-investigative, gli organi di cooperazione internazionale sono riusciti a determinare con esattezza la residenza dell'uomo. Conseguentemente, il 23 gennaio scorso, una pattuglia si era presentata all'indirizzo individuato al fine di procedere all'arresto. Il ricercato però era riuscito a darsi precipitosamente alla fuga. Diramato dalle forze di polizia italiana e internazionali l'alert della fuga, diramato anche a tutti gli aeroporti di zona, il Reo è stato arrestato poiché si è presentato ai varchi di sicurezza all'aeroporto di Parigi nel tentativo di lasciare lo spazio Schengen. Ci spostiamo adesso virtualmente nel Messinese per parlare invece dei controlli effettuati dai carabinieri in due strutture socioassistenziali della provincia di Messina e qui le forze dell'ordine hanno riscontrato diverse irregolarità, tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Taormina, del NAS di Catania e del nucleo ispettorato del lavoro di Messina hanno effettuato servizi straordinari di controllo finalizzati alla tutela della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro nero, con particolare riferimento alle strutture socioassistenziali ispezionate con la principale finalità di tutelare la salute e il benessere degli anziani e dei disabili ospitati. Sono state pertanto controllate due strutture sul conto delle quali i carabinieri hanno effettuato verifiche alle autorizzazioni per il regolare esercizio dell'attività sull'aspetto igienico-sanitario e strutturale dei locali, sulla corretta detenzione e validità dei farmaci somministrati agli ospiti e sulla posizione lavorativa del personale dipendente. All'esito degli accertamenti, i militari dell'arma hanno deferito in stato di libertà una cittadina straniera per esercizio abusivo della professione, ritenuta responsabile di aver esercitato l'attività di infermiera in virtù di un titolo abilitativo conseguito presso uno Stato estero e non riconosciuto nel territorio italiano. Inoltre sono state accertate violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tra cui l'omessa a dotazione dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti e la mancata formazione e visita periodica dei lavoratori, motivo per il quale, a carico del responsabile della struttura, sono state combinate ammende per l'ammontare di oltre 25 mila euro. Infine è stata accertata la presenza di un lavoratore in nero contestando una sanzione amministrativa di oltre 6 mila euro a carico del titolare, a cui è stato fatto obbligo di regolarizzare la posizione del dipendente nei termini previsti, trascorsi i quali scatterà la sospensione dell'attività. Occorre comunque precisare che i controlli non hanno rilevato la presenza di irregolarità in materia sanitaria e di igiene. I servizi di controllo nel settore delle strutture sociosanitarie saranno ripetuti dai carabinieri del Comando Provinciale di Messina e dai reparti speciali NAS e Nucleo Ispettorato del Lavoro, al fine di assicurare principalmente un'efficace azione preventiva oltre al contrasto degli illeciti, con lo scopo importante di tutelare la salute e il benessere dei degenti. Un grave fatto invece è avvenuto a Vittoria nel Ragusano, una storia che coinvolge un bambino di 10 anni il quale adesso rischia di perdere seriamente una mano a causa dell'esplosione di un petardo. Il ragazzino, secondo quanto riferito, stava giocando in una zona di campagna, appunto nel territorio di Vittoria, con alcuni amici, quando per terra ha trovato un petardo inesploso. Lo ha quindi raccolto, ma a quel punto l'oggetto gli è esploso tra le mani, causandogli gravi lesioni. Sono subito intervenuti i soccorsi. Il bambino in un primo momento è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Guzzardi. Da qui è stato poi trasferito tramite l'elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Come detto, a causa delle gravi lesioni procurate da questa improvvisa esplosione, adesso il bambino, lo ricordiamo, di appena 10 anni, rischia di perdere una mano. Torniamo invece a occuparci di Matteo Messina Denaro. Ovviamente proseguono serrate le indagini dopo la cattura del super boss, soprattutto per cercare di ricostruire gli anni della latitanza e capire un po' chi ha fiancheggiato, ha protetto Messina Denaro durante questi lunghi 30 anni. Personale della DIA, intanto, ha effettuato una perquisizione nell'ufficio anagrafe del comune di Alcamo, nel Trapanese, acquisendo alcuni cartellini di carte d'identità. In soldoni si tratta di quei documenti che restano poi al comune dopo l'emissione delle tessere, quindi delle carte d'identità. La perquisizione, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere appunto correlata alle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Nell'ultimo covo del boss, infatti, a Campobello di Mazzara, sono state trovate 5 carte d'identità intestate ad altrettante persone incensurate e ancora in vita, che risiedono proprio a Campobello. E tra l'altro il capo mafia aveva con sé anche diverse fototessere. Gli inquirenti stanno adesso cercando di capire l'identità, l'origine di questi documenti, come sono stati contraffatti, probabilmente qualcuno ha aiutato il boss a farlo, anzi, certamente qualcuno lo ha aiutato, e poi, eventualmente, se vi siano complicità anche in alcuni impiegati comunali, quelli addetti poi al rilascio delle carte d'identità. Dunque, proseguono, come detto, le indagini. Noi chiaramente vi aggiorneremo sempre con le notizie che arrivano su questa importante vicenda, con nuovi sviluppi. Ve li daremo nel corso delle edizioni di Spazio Notizia. Ora cambiamo ancora argomento, ci spostiamo invece a Licata, siamo quindi nell'Agrigentino. Parliamo di un furto, furto commesso in una gioielleria che si trova all'interno di un centro commerciale proprio a Licata. Dopo essere entrato all'interno dell'attività commerciale e aver chiesto al titolare, a un dipendente, di vedere alcuni gioielli, un malvivente ha afferrato un anello e una collana e poi è fuggito via facendo perdere le sue tracce. Il titolare ha quindi contattato le forze dell'ordine con i carabinieri della compagnia di Licata che si sono poi presentati sul posto per raccogliere le prime testimonianze. I militari hanno quindi avviato le indagini per cercare di risalire al responsabile del furto e saranno in tal senso di grande aiuto le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale. E con questa notizia ci fermiamo. Per il momento è tutto, ma l'informazione ovviamente prosegue su Sicilia24.